benvenuti a tutti sul mio canale io sono nancy e oggi parliamo di grandi cambiamenti per bella rodriguez la sua della argentina dopo un periodo difficile ha deciso di apportare grandi novità nella sua vita così dopo la rivoluzione in ambito sentimentale professionale adesso è pronta a fare un taglionetto con il passato iniziando da mazza nuova belen infatti è pronta per un trasloco ma non da fidanzato a elio lorenzoni a brescia come si vociferava negli ultimi giorni ma bensì in una nuova abitazione al centro di milano anche se non è ancora specificato dove in modo da poter lasciare alle spalle il passato e per passato intendiamo la casa che condivideva con l'ex marito stefano de martino che sicuramente era piena di ricordi belenno ha scelto di condividere il momento sui social ha scelto un'abitazione che dalle foto postate su instagram malgrado sia ancora in ristrutturazione sembrerebbe davvero essere di lusso si tratta di un attico molto grande con un enorme terrazzo che circonda tutta la casa a catturare l'attenzione una veranda in vetro che consentirà alla rodriguez di godersi il panorama anche nelle serate invernali l'attico inoltre è anche caratterizzato da un pavimento laminato grigio da una serie di piante verdi per il momento belenno non ha mostrato gli interni dell'appartamento forse anche a causa dei lavori che potrebbero essere in corso insomma non ci resta altro che attendere per scoprire in che modo la conduttrice personalizzerà la propria abitazione l'unica cosa certa è che belenno sta dando il via ad un nuovo capitolo della sua vita se il video ti è piaciuto lasciami un like iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video